Salve a tutti, siamo con un nuovo video in questo video ragazzi, oggi ci scambieremo, io e Veronica, quindi quello che di solito faccio io dovrà fare Veronica e quello che fa Veronica dovrò fare io e Veronica non fa tante cose sinceramente, quindi mi andrà abbastanza facile, poltrirò tutto il giorno su TikTok, scherzo non è vero, non è vero, lei lavora sempre tutti i giorni, lavora, ma ovviamente oggi non c'è il lavoro, quindi sì mi toccheranno delle cose veramente strane e invece a te toccherà fare ad esempio un video di GTA, ok quando sei pronta? Adesso, vai 3, 2, 1, ecco questo è esattamente quello che intendevo quando dicevo che questa è la giornata tipica di quando non ha da lavorare al lavoro, no no adesso ti faccio vedere io com'è, Allora, prima cosa della giornata, prima cosa che fai, così ci scambiamo, prima cosa che faccio io e prima cosa che fai tu, vai, tieni la telecamera che adesso faccio vedere a tutti qual è la prima cosa che fai tu, vai Dove sei? Non dormo così, dai Che ora è solo? Che ora è? Quasi mezzogiorno Quindi adesso posso iniziare la mia giornata da Veronica, però tu devi iniziare la tua giornata da Giulio Sì Ah questo sarei io? Sì dormo così Dormo anche così Ah vedi che io mi sveglio subito con la sveglia Subito al computer Sì ciao ci sono Sì ciao ci sono Però è accurato, è accurato Prima cosa della giornata qui di farmi truccarsi Quindi le sopracciglia, fai qualcosa con le sopracciglia con un aggeggio di metallo che è terribile E poi le unghie, quindi adesso devo fare le unghie, vediamo un po' se riesco, per la prima volta, anche perché non ho mai avuto le unghie in vita mia tranne adesso, me le sono sempre mangiate Iniziamo già malissimo Come iniziamo malissimo? Guarda è venuta perfetta Ah no scusa Senti me la porti una camilla? Cosa mangiamo a pranzo? Cosa mangiamo a pranzo? Come mangiamo a pranzo? Cosa cuciniamo a pranzo? Non lo so smettila di rompere Così giusto? Sì Infatti sento che si stanno asciugando Sì Deve stare 20 minuti così No 20 minuti così Comunque sta benissimo quel colore con la felpa Sì con la... Anche la felpa è molto sobria Era la mia pancia L'avevo staccata la piastra? La piastra! Ah sì sì non l'ho neanche usata oggi Ah che vero È staccata no? Sì staccata Guarda che faccio una foto per vedere se... Che è staccata così mi ricordo che è staccata Ho respirato... È lo smalto Mamma mia ho respirato una roba che mi è entrata nei polmoni Oddio Ecco qua Fatto Ok quindi adesso Adesso Ecco perché fai tanti passi tu Perché fai sempre così Salve a tutti siamo qui con un nuovo video di in questo video Vi mostrerò come faccio un video di GPS Con le mie occhiali Sporchissimi Sì sono sporchissimi Avrei avuto anche i cornflakes Oreo Ma l'altro giorno Charlie ha ben pensato di farli cadere a terra Perché pari come un robot? Niente Io non parlo come un robot Guardate le mie unghiette Guardate le mie unghiette A Dubai Ma no ma ti sembra che parlo così A Dubai Fatemi vedere se ho staccato la piastra un attimo Sì è staccata meno male Qui c'è una borsetta piena di cose E questo è l'aggeggio che vi dicevo Questa roba qui Vediamo come Oddio ma È pericolosissimo Ah Tira tantissimo le ciglia Ok no 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 Questo Questo non lo faccio Grazie Maschera video purificando Agenda nera e carbone Guardate che roba che è questa Ma che caspita Sarà giusto così Boh Ma vero Com'è possibile una cosa del genere Ma non è possibile Sono bella? Questa non me l'aspettavo Sei sempre bellissima Grazie Non spaventarti eh Non spaventarti È una maschera Capito? Va bene va bene Non mi spavento Grazie Ok Vuoi un po'? No 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 Oh no lo smalto Vabbè Adesso devi rimettertelo No Sì Tanto tu non guardi le altre E chi lo dice questo? No 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 Sennò io vado a guardare gli altri uomini No non puoi Ho staccato la piastra? Non lo so Aspetta Ah si è staccata Dovresti un po' rifarti i baffetti? No I baffetti no Allora tu dovresti rifarti i sopracciglia Vieni a farmi un po' di coccoline Dai Sto lavorando No dai Vieni a farmi un po' di coccoline Per favore Vieni sul divano Sto lavorando Non fare danni che questo è il mio prossimo progetto Eh Ecco Sì Eh sì è il nostro prossimo progetto Vabbè Insomma Comun Ma ne avete una copia salvata Sì che ne abbiamo una copia salvata No Lasciami stare Guarda sono carine le mie cose Sì sono Hai visto il tiktok che ti ho mandato? No Non ho tempo di guastare su No no Guarda il tiktok che ti ho mandato Dai Hai visto il tiktok? Vai a vedere adesso Vai a vedere adesso il tiktok che ti ho mandato Vai Vai a vederlo Vabbè Quando vuoi venire a farmi due coccoline Io sono sul divano Sì Arrivo tra un momento Ecco Ti mando una foto Ti piace questo Mmm Ti mando una foto Ti piace questa foto adesso? Dimmi se ti piace Va bene Bella è? Sì Ok Allora è brutta? No Che bella puoi metterla su Instagram Posso? Ma non sono mica convinto Mmm Non lo so Provo a modificarla un po' con Instagram Luminosità Mmm Sì contraste Contraste Accendilo tu il condizionatore No Sì Perché dovrei accenderlo io? Scusa È cucina in farmosa Ok Va bene Adesso lo accendo Sì così Prima Dopo Prima Dopo Ok Cosa cuciniamo oggi? Basta chiederlo Cosa cuciniamo oggi? C'è sempre fame Abbiamo appena fatto colazione Basta Senti io già ho fame Basta Cioè sai quante calorie hai mangiato già a colazione? No ma non ho mangiato niente Poi ho fatto tanti passi Tantissimi No Tu non hai fatto niente Sei stato qua tutto il giorno seduto al computer Senti sto lavorando Sì ma cosa vuoi mangiare? Cosa c'è? Eh non lo so è casa tua questa Cosa c'è? Vai a vedere cosa c'è? Pasta Riso Cosa pasta? Eh se non lo sai tu? Eh eh non lo so Non c'è niente Cioè io schiaccio e viene esce un triangolo Ma non ha senso perché li schiaccio sul triangolo e non succede niente Poi le misure sono sbagliate Sbagliate Dai ragazzi non posso fare tutto io però Oh fame mangiamo Vieni a cucinare dai Ragazzi scusate ho una fidanzata che rompe No no dai andiamo a cucinare Solo da lavare i piatti No tu li lavi i piatti No Tu li lavi i piatti No è un cucino Tu lavi i piatti No tu io cucino e tu lavi i piatti No Ma io ho appena fatto lo smalto Eh ma quelli sono problemi tuoi Che brava Ti ho detto cos'è successo al lavoro ieri? No non mi hai detto Quella strozza È entrata una in negozio Cioè senti questa È entrata una in negozio Con un bambino piccolo Capito che strozza Hai capito? Con un bambino piccolo Hai capito? Che faceva il bambino piccolo? Davanti alla porta Per un bambino piccolo quanto? Quanti anni aveva? Tre Quattro anni Nove? No tre quattro anni Tre quattro Ma nel pallorino? No Si è seduta così E ha fatto la pupù Capito? E la mamma non gli ha detto niente E poi che ha dovuto pulire Con l'acqua Io No Ma che schifo Che schifo Hai capito la gente? Ma che schifo Invece di stargli impalato Perché non mi inizia a preparare un po' Come faccio? Prendi le cose da lì E inizia a preparare Sto facendo un video Pulisco sempre io Tu e le pulizie di casa proprio Zero eh Bravo cari Bravo Sei proprio tutto il tuo padrone Dove vai? Aiuto Perché mi segui? Un piccolo canizino Vuoi che facciamo a cambio? Che l'avo un po' io? Davvero lo faresti? Si per te si Va bene Ok si Che cosa stai facendo? Sto facendo passi no? Per l'orologio Così mi pagano Ma come ti pagano? Mi pagano con l'app Con l'app mi pagano Ma scusa Non sarebbe meglio Che tu vada fuori a camminare? Senti ma adesso Doviamo cucinare e mangiare Intanto faccio passi Mentre aspetto che Lavi piatti no? Ok Vediamo quanto sono Intanto sono prima tra le mie amiche Ah wow Sì Quanti soldi hai guadagnato? Zero virgola due centesimi Wow Sì E quanto hai camminato? 13.460 passi guarda Ah però Sì Beh un buon guadagno Senti non prendi in giro Ok? Sei ancora qui? Anche tu sei ancora così? Beh No no Io ho lavato i piatti Tu adesso cucini No Sì Cuciniamo insieme Cosa? Cuciniamo insieme Ma ti sei lavato le mani? Ma certo Quando? Senti Ok Vabbè Tortilla wrap Tortilla wrap Sì Con Insalata Ok Feta Sì Pomodori secchi Sì 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 poi Cetriolini Ok buoni buoni E basta Perché qualcuno non è andata a fare la spesa Io devo fare la spesa È casa tua Tu devi andare a fare la spesa Capito? Senti eh Senti eh Wow Fai vedere cosa ti ho insegnato io Eh Da bravo padroncino che sono Vediamo cosa ti hai insegnato Allora Charlie Vieni qui qua Senuto No Senuto Giù a terra Rotola No Rotola Rotola Bravo Bravo Dopo tre ore No nel video sarà tutto tagliato Si vedrà solo quando è stato bravo 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 Ecco abbiamo fatto delle piadine con le cose arrangiate che abbiamo trovato nel frigo di Giulio Perché ovviamente sì Lui non fa la spesa Quando fa la spesa pesa solo a se stesso Ecco È un pranzo svuota frigo È un pranzo svuota frigo Sì Sì Preferivo un po' che però insomma Ok Mi preferivi un sushino Sì anche un sushino L'hai bruciata come il tuo solito hai bruciato le cose No E hai bruciato la piadina che sta su da sola Faglielo vedere che sta su da sola Guarda sta su da sola Ti sembra una piadina normale? Con una mano Questa è la tua Ecco È pronto? È pronto È pronto? Tu stai sempre su TikTok? Sì stavo guardando un ragazzo carino E quindi ecco qua la nostra piadina E c'è tutte queste belle cose Quindi seguitemi su Instagram ragazzi Ok allora chiudi la porta questa Chiudi anche l'altra porta E accendi la tv e metti volume 50 Ma no dai non ti ascolto dai Fallo mi arrabbio Ma no dai non ti sento mica Poi cosa mi interessa di che cosa dici al computer Fallo lo stesso per favore Ok va bene dai Ok Chiudo questa? Sì Anche questa? Sì Non con due mani diverse Tu con la stessa mano Fai WS, AD e Shift Senti è solo 5 di più Fai Shift col mignolo Esatto WS con quelli Esatto esatto E col mouse ti direzioni Con due mani per guidare Allora come è andata? È stata dura Eh? È stata dura Ah è stata dura Però ce l'ho fatta Bene Bene Spero piaccia ai miei iscritti Eh sì ai miei Eh sì giusto Sapete cosa avrei proprio voglia di una cocchina in questo momento? Vediamo quando quell'altro si sbriga ad uscire eh Eh insomma Oggi le sto rinfacciando tutte ragazzi Eccoci qua Salve signorina dove la porto? Ecco Eh quindi Mi porti da Starbucks? Va bene In quale Starbucks Ma come va bene Non c'è neanche Starbucks qui Beh andiamo a Praga Adesso Adesso Perché non metti un po' di musica? Uffa Mi sto annoiando Metti un po' di musica Vuoi una canzone di quelle che piacciono a te? Una di quelle che piacciono a me Sempre quelle che piacciono a me Mai quelle che piacciono a te Oddio che paura sì Eccoci Preso il cibo Preso il cibo Eh Sushi beh Meno male Sono contentissima del sushi Pov Sei affamato Pov sei affamato Però anche la portata con sushi parte Sì Sì Appena andrà a coprire E' proprio più che altro Ecco Eh lo stai distruggendo quel sacco lì Eh è troppo preciso Troppo perfetto Sushi party Adesso facciamo la reaction Sushi big party Sushi big party Uh Beh poco però Un po' pochino però Ce lo facciamo bastare Un po' 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 Grazie.